Nel 2021 e il 2022 sono stato vittima di una truffa. In una vincente avventura che supera i confini dell'immaginazione, Nunzio Bevilacqua, avvocato d'affari, si imbatte in un mistero internazionale fatto di amore, inganni e una ricerca disperata della verità tra Italia e Brasile. L'oggetto del reggiro era appunto quello di far credere a questi truffati che attraverso appunto una relazione sessuale breve con queste donne che apparivano delle persone ottime, di ottima moralità e anche contestualmente a livello sociale, di contesto buono, che erano state messe in città. Dalle calde spiagge di Santa Caterina nel sud del Brasile la vita di Nunzio prende una svolta inaspettata con una relazione fulminea fatta di promesse di felicità per poi scoprire invece una truffa intricata e particolarmente oscura. Incontro una persona con un curriculum eccezionale, perfetta, troppo perfetta. In realtà tutta la truffa si basava sul fatto che esiste all'interno di questa organizzazione un santone. Questo santone deve inseminare queste ragazze e queste ragazze devono incontrarsi rapidamente con gli stranieri facendo credere che quel rapporto occasionale abbia portato a una gravidanza. La mia più grande soddisfazione è salvare anche qualche persona, almeno una. Buongiorno, buongiorno ad Alessandro Politi. Ciao Alessandro, insieme a Nunzio e bevi l'acqua, avvocato. Una truffa che è veramente una cosa, un grande scoop che avete fatto. Grazie, qui c'è Fabio Insenga, che è il vice direttore di Eni Kronos. Grazie di essere qui. Grazie a voi. Che cosa accade? Quante vittime ci sono state, soprattutto di questa truffa? Si parla di una maga, di TV2, di tutto e di più. Alessandro, raccontaci. Signor Onora, buongiorno. Buongiorno a tutti. È una storia veramente complessa. Parlare di truffa probabilmente è riduttivo, perché ci sono persone, come Nunzio, che ringrazio tantissimo, che è un noto avvocato molto importante, che ha deciso di metterci la faccia non soltanto per se stesso, ma per aiutare tutte quelle vittime che non hanno avuto o non hanno la forza di esporsi, perché forse, come dicevi prima, sposati, e quindi non possono raccontare quello che stanno subendo, e delle future presunte vittime che questa associazione criminale che Nunzio ha scoperto, che si è vestito da detective e ha scoperto, stanno continuando purtroppo a colpire. Quindi Nunzio prima mi raccontava anche ovviamente che questa storia l'ha distrutto. E ora ce lo racconterà, perché anche emotivamente è importante raccontare l'aspetto umano, perché da una parte c'è un grande avvocato che ci mette la faccia, perché ha subito sì una truffa, ma non l'aspetto economico. È chiaramente la violenza psicologica che ha subito. Pensate di essere convinti di essere padre di un figlio che in realtà non soltanto non è vostro figlio, ma che dietro c'è un'estorsione, c'è un'associazione criminale che, come con te, sta manipolando i tuoi sentimenti e soprattutto sta di fatto fabbricando, usando questo termine che è uscito anche sui giornali, la fabbrica dei bambini, questi bambini che sono ancora una volta le vere vittime, che soprattutto ci chiediamo che fine fanno questi bambini. Guarda, tu hai costruito... Facciamo un passo indietro. ...in un servizio. Alessandro, così la spieghiamo bene, anche attraverso le carte, i documenti, le immagini. Poi qua il vice direttore ci racconterà bene tutto e poi sentiremo la vittima. Nunzio Bevilacqua ha deciso di metterci la faccia perché altre persone, altri uomini non cadano in questa rete che, come dici bene tu, qua non c'è solo la truffa, ci sono dei reati pesantissimi. Sentite. In una trama che avvince come il più intricato dei gialli, Nunzio Bevilacqua, stimato avvocato di impresa, si avventura oltre confine spinto da un desiderio di espansione professionale e personale. Il suo percorso, però, si incrocia con quello di una donna italo-brasiliana particolarmente enigmatica, avvolta in un'aura di mistero e promesse. È il 2021, siamo in Brasile, esattamente a Santa Caterina. Ed è proprio qui che da semplici lezioni di portoghese si arriva rapidamente a promesse di un futuro insieme. La relazione fulminia tra Nunzio e questa enigmatica figura femminile prende una svolta drammatica con la notizia improvvisa di una gravidanza. Tuttavia, l'iniziale gioia si trasforma rapidamente in confusione quando la comunicazione con la donna diventa sempre più evasiva, gettando Nunzio in un mare di dubbi e lasciando indizi di una possibile truffa dietro di sé. Con l'istintivo bisogno di scoprire la verità e far luce su di una realtà oscura, Nunzio si immerge in un'indagine personale che lo porta dal cuore dell'Italia alle coste brasiliane, dove scopre una rete di inganni che coinvolge cliniche di dubbia reputazione, presunti documenti manipolati e addirittura una sorta di setta che orchestra e gestisce un vero e proprio business fatto di ricatti, menzogne e presunte istorsioni che vede al centro guru, santoni, donne e bambini. La storia di Nunzio è un monito sulla fragilità dell'uomo di fronte alle astuzie dell'inganno, ma anche sulla resilienza dell'animo umano nella sua eterna ricerca della giustizia. Allora, siamo senza parole per quanto stiamo ascoltando. Questa è un'esclusiva di ADN Cronos che ci state gentilmente fornendo in diretta come informazioni e la storia che noi abbiamo in diretta. Come siete venuti a sapere di tutta questa? Innanzitutto, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Sono a conoscenza di questa storia per un rapporto che abbiamo con l'avvocato Nunzio Pivilacqua da tempo, perché, come avete detto bene voi, è uno stimato professionista che fa l'avvocato d'affari che quindi conoscevamo per altre ragioni. Quando ci ha raccontato questa storia, abbiamo preso tempo perché questa è una storia importante, è una storia che va rispettata con il rigore, con il massimo rigore possibile. Infatti, mi fa piacere parlarne qui da voi perché serve proprio l'informazione, la buona informazione per raccontare storie del genere. Perché, va detto, siamo in una fase del procedimento giudiziario che è solo all'inizio perché è stata fissata. Quanti uomini sono finiti in questa rete? Allora, non lo possiamo dire con certezza dalle indagini che ha fatto la difesa e quindi non solo l'avvocato Bevi d'acqua ma tutto il pool che lo segue ci sarebbero almeno una quindicina di persone tutte italiane e alcuni manager anche di un importante multinazionale di cui non possiamo fare il nome per ovvie ragioni. Dicevo... Nomi conosciuti nomi importanti e comunque uno standard diciamo di vittima perché sono tutti benestanti sono tutti manager sono tutte persone che... Beh certo se non c'avevano i soldi non andavano. Ma anche per dire che non c'entra niente... Qual è il meccanismo di aggancio di ancoraggio verso queste persone e che cosa chiedevano e che cosa gli permettevano? All'inizio di una relazione come tante altre è un rapporto... Per cui relazioni extraconiugali. Relazioni extraconiugali spesso non nel caso dell'avvocato Berilacqua che infatti è una persona che ha potuto metterci la faccia proprio perché è libero da impegni e quindi ha potuto denunciare tutto. Ci sono tante persone che invece perché hanno legami coniugali fanno più fatica a denunciare e questa è una storia importante anche per questo perché se i fatti venissero accertati tutti come è probabile che sia perché insomma la denuncia è molto circostanziata e ci sono una serie di prove Ci sono test del DNA finti test del DNA come se li procuravano? Ci sono test del DNA fatti a distanza e tramite una serie di indagini che sono state fatte da Bevi d'Acqua ci sono delle perizie che accertano che i test siano stati manipolati ovviamente non si può sapere quando e come in quali laboratori ma ci sono a livello scientifico dati che non tornano e c'è un sistema diciamo lì in Brasile che sarebbe colluso con questa organizzazione quindi sarebbe coinvolta la procura locale che attribuisce paternità in maniera facile sarebbero coinvolte strutture sanitarie che manipolano test genetici insomma è un'organizzazione che se venisse svelata nella sua pienezza porterebbe a degli scontri importanti per cui probabilmente ci sono le mafie dietro a tutta questa storia allora andiamo per ordine parliamo di questi finti test del DNA attraverso questi test annunciavano delle gravidanze Alessandro parliamo con il tuo ospite raccontiamo la sua storia e cerchiamo di capire passo dopo passo che cosa succedeva a questi uomini Dottoressa buongiorno innanzitutto buongiorno grazie per l'invito allora quando conosce questa persona prego prego io conosco questa persona casualmente perché diciamo spinto dalla mia voglia di apprendere anche il portoghese in maniera più professionale perché lavoravo tra il 2020 e il 2022 in Brasile accedo ad una piattaforma online per fare un corso di portoghese professionalizzante quindi preciso che il punto di incontro non è un punto diciamo di siti per conoscere persone per altri fini che siano quelli professionali va avanti questa conoscenza esclusivamente professionale per quasi cinque mesi dove ovviamente non si parla di nulla che è quello che era appunto il mio apprendimento e il mio miglioramento della lingua però ovviamente in questo periodo cosa succede? succede che proprio perché era un portoghese per negozios quindi per lavoro la persona comincia a conoscere un po' tutto quello che erano i lavori che io dovevo andare a fare ma soprattutto le persone a livello anche istituzionale che avrei anche incontrato e anche sui giornali questo insomma persone di vertice in Brasile dopodiché c'è stato un incontro casuale perché scendo nello stato di Santa Caterina sempre per lavoro per un incontro con un'autorità locale e da lì ci sono stati pochi incontri diciamo un principio di relazione che è stata davvero fulminea dopodiché a un certo punto dopo poche diciamo frequentazioni parliamo di 4-5 incontri che si sostanziavano sostanzialmente nei fine settimana perché io stavo diciamo a San Paolo in quel periodo esce questa gravidanza gravidanza che per me è inaspettata ma non una cosa che io respingo anzi diciamo che l'accetto come un qualcosa che poteva arrivare non mi creava il problema ecco a quel punto poi ovviamente a quel punto succede una cosa succede una cosa molto strana un'anomalia comportamentale che come se diciamo la cosa fosse compiuta mi comprenda dottoressa a un certo punto c'è stato un distacco immediato questo distacco immediato che io ho interpretato inizialmente in buona fede come una evoluzione diciamo un principio di gravidanza quindi per questioni ormonali piano piano si è trasformata in qualche cosa di diverso perché questa persona che inizialmente aveva detto di voler venire in Italia addirittura con il suo certificato di gravidanza insieme ad un biglietto che mi è stato fatto emettere di sola andata per l'Italia otterrà la stampa del passaporto lei era già di nazionalità italiana ma non aveva ancora il documento perché era in attesa a un certo punto dice nel momento in cui io riscendo per portarla in Italia riscendo in Brasile per portarla in Italia alla prima analisi diciamo ecografica succede un qualcosa di inaspettato dopo l'analisi ecografica dice tu te ne devi andare da qua e lì capisci ti posso dare del tuo avvocato lì capisci assolutamente assolutamente che c'è qualcosa che non va che non quadra ma capisco perché 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 andiamo a fare questa ecografia io quasi la costringo perché lei stranamente non si era voluta fare mi diceva mi diceva che è un mondo di menzogne che non si era voluta fare nessuna analisi per i primi tre mesi che aspettava me quando arrivo io in Brasile neanche voleva farlo ma io ovviamente prima di essere cacciato e ricacciato in Italia pretendo come è logico per ogni supposto ricordiamo padre di fare un'ecografia se quello è realmente mia figlia e che succede andiamo da questo ecografista e questo ecografista chiede la data delle ultime mestruazioni scusi chiede la data dell'ultimo chiede la data dell'ultimo ciclo alla ragazza in questione lei dichiara una data e l'ecografista dice diciamo il feto ha dieci settimane e quattro giorni però complimenti perché è molto grande io già vi riesco a dire che con dieci settimane e quattro giorni vedo perfettamente che è una bambina io normalmente lo vedo tra le dodici e le tredici settimane a quel punto il panico della ragazza incomincia a balbettare dice evidentemente il padre è grande e a quel punto mi dice ritornatene adesso in Italia e poi poi io ritorno 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 in Italia e credendo appunto non comprendendo in buona fede cosa potesse essere successo ritorno in Italia e tornando in Italia dopo praticamente qualche settimana stiamo parlando neanche tre settimane da quando ero ritornato quindi a gennaio del 2022 la persona mi dice io non ho bisogno di nulla sono economicamente benestante mi terrò la bambina gli darò il mio cognome e ti concederò di vederla quando nasce l'unica cosa che però devi fare non mi chiedere nulla della gravidanza fin quando nascerà la bambina e allora lì era lo shock perché questo? e perché me lo deve di lei avvocato perché io il perché il perché il perché perché io perché fino a qua potrebbe essere che una donna non vuole più sentirla vederla dicendo che sono in gravidanza certo e assolutamente assolutamente dove entra la margarito voodoo la truffa mi faccia capire allora mi tiene appesa certo allora rapidamente che cosa succede? succede che la persona si era resa conto che io facevo troppe domande su questa gravidanza e allora non ero una persona come poi viene definita le capre italiane perché siamo definite così in vari documenti le capre italiane io facevo molte domande e allora cosa succede? preferisce preferisce nello schema di questa di questo modus operandi di queste persone dire guarda non ti preoccupare stammi distante io non ti chiedo soldi così mi teneva buono quando nascerà la bambina ne parleremo però questo cosa succede? succede che a fine aprile degli avvocati che io avevo conosciuto per altre situazioni lavoravano con me nel diritto di impresa gli succede la stessa cosa? a un certo punto gli era successa la stessa cosa? succede no non succede la stessa cosa mi avvicinano queste persone e mi dicono ma perché non gli offriamo del denaro perché altrimenti quando nascerà la bambina la persona in questione potrebbe crearti dei problemi e io dico a questi avvocati e quali problemi mi dovrebbero creare? mi ha detto che sto stalkerizzando i genitori solo perché io ho chiesto pietosamente qualche informazione sulla bambina nessuna informazione mi è mai stata andiamo al assunto avvocato ci faccia capire perché se no io non comprendo l'evoluzione della storia che cosa succede a quel punto? dov'è la truffa? succede a quel punto che mi dicono di dare questi soldi per offrire questi soldi a questa ragazza perché mi creano i problemi io dico me li dovrà chiedere lei questa persona con una surreale chiamata mi chiama dicendo appunto non facendomi capire a che punto della gravidanza sta non facendomi capire nulla se nasceva dove nasceva e come nasceva a un certo punto si fa risentire poco prima della supposta gravidanza dicendo tu mi devi dare i soldi e io dico in che senso mi avevi detto fino a poco tempo fa che non volevi soldi eri benestante che non volevi soldi sì ma non li voglio io li vuole la bambina dico vabbè allora vuol dire che vuoi che io riconosca la bambina dimmelo per me va bene guarda l'importante è che mi dai soldi in che senso scusa sì l'importante è che tu dai soldi per la bambina ma non posso dare i soldi per una bambina se non ho effettuato il riconoscimento questa bambina non lo sappiamo non lo sappiamo perché mi è stato mandato un messaggio dopo supposti quattro giorni di questa nascita dove non sappiamo dove sia nata che tipo di parto ha effettuato e soprattutto le tempistiche di questo parto da qui quindi parte una richiesta di DNA ai miei ex avvocati di fiducia che incidentalmente erano in locazione con il loro studio legale della controparte cioè la controparte questa signora insieme con la sorella era proprietaria dello studio legale dove operavano questi due avvocati quindi questi due avvocati mi inviano presso questo laboratorio avvocati che ovviamente erano in conflitto di interesse palese perché ovviamente era iniziato un giudizio è una persona che sta in locazione con il proprio studio legale alla controparte e invia presso un laboratorio in conflitto di interessi mi mandano presso questo laboratorio a San Paolo di lì a poco mi arriverà un risultato che mi dirà tu sei sicuramente il padre risultato che non aveva nulla che adesso avete messo immagino una denuncia avete messo in dubbio perché lei abbiamo iniziato che questo test del DNA sia falso e che quella bambina non sia sua figlia diciamo sì diciamo che questo test del DNA che mi è arrivato da un indirizzo qualsiasi addirittura Renora con il nome della bambina minore nel PDF senza dati elettroforetici una cosa veramente che non si è mai qua stiamo parlando di l'ecografista non credo perché insomma ma tutto il resto cioè un sistema direttore un sistema tra avvocati cioè una vera e propria organizzazione definiamola così quello che emerge avvocati persone appunto questa donna questa donna che avrebbe agganciato questa relazione poi per chiedere dei soldi fornendo si presuppone ripeto perché ci sono delle indagini in corso un finto test del DNA esatto il quadro che emerge ribadisco anche una ricostruzione di parte questa che poi il procedimento iniziale asserterà infatti lo sto dicendo ci sono delle indagini in corso comunque il quadro che emerge è quello di un'organizzazione a delinquere che sfrutta queste ragazze per avvicinare italiani per attribuire poi tramite la collusione nel sistema locale paternità del tutto arbitrarie e per estorcere poi dei soldi se tutto questo venisse confermato dai fatti e dal procedimento giudiziario ovviamente si romperebbe diciamo uno schema che rischia di colpire moltissimi italiani ecco voi avete fatto denuncia da quanto tempo e soprattutto che cosa che cosa attendete ora insomma che cosa vi aspettate da questa indagine vorrei aggiungere vorrei aggiungere una cosa che praticamente la cosa particolare la peculiarità che queste persone come era stato anticipato da questi avvocati prima mi hanno diffidato durante la gravidanza perché io non facessi domande riguardo la gravidanza accusandomi praticamente di fare stalking quindi mi hanno fatto una sorta di diffida a non fare domande sulla gravidanza eccetera poi gli avvocati di lei mi scrivono successivamente alla nascita dicendomi che mi avrebbero denunciato per non avere assistito la propria assistita durante la gravidanza quindi questo già ci fa capire che la condotta dove prima mi si ammonisce per stalking di stare lontano e di non chiedere informazioni dopo mi si minaccia di una denuncia per abbandono della persona questo è già un principio dove si fa capire dove si va a parare cioè nella sorta di trappola nella quale mi hanno fatto allora facciamo una cosa del genere io ho un'altra pagina per cui ovviamente adesso questa questa truffa e questa inchiesta che stiamo seguendo da oggi grazie a D.N. Kronos e continueremo a seguirla e la sua storia soprattutto la tua storia ci davamo del tu ecco volevo solo capire quando hai denunciato e quanto tempo è passato per comprendere più o meno se dobbiamo aspettare altri mesi per gli esiti 24 ottobre prossimo è fissata l'udienza criminale dal GIP di Roma è il momento in cui diciamo tutto questo prenderà forma anche dal punto di vista per cui a ottobre novembre 24 ottobre c'è l'udienza fissata manca un po' di tempo manca un po' di tempo va bene grazie c'è anche una denuncia c'è anche una denuncia una richiesta di azione penale in Brasile da parte di un importantissimo avvocato criminalista l'avvocato Edson Ribeiro che ha depositato la richiesta di esercizio di azione penale proprio ad Uberlandia minaggerai luogo del supposto diciamo test di paternità grazie grazie annunzio bevi l'acqua ciao Alessandro Politi e un ringraziamento a Fabio Insenga vice direttore di Ennecronos grazie a voi e ovviamente seguiremo l'inclusione delle indagini e soprattutto quello che accadrà fra poco poi le maghe e il ritu vudu ancora non ho capito cosa c'entrassero va bene ce lo spiegherete e grazie a tutti